Una grande operazione verità dopo cinque anni di menzogne, cinque anni difficili, cinque anni in cui abbiamo affrontato prove veramente pesanti. E' cominciato nel 2008 quella grande sorpresa che ha visto a un certo momento l'incredibile, quello che non doveva accadere, il fatto che un sindaco di centrodestra arrivasse in Campidoglio era qualcosa che nessuno si aspettava.